ce l'hai? ce l'ho ce l'ho non è un barracuda è un paramita mi sa no ce l'ho è qui è grosso questo è grosso datemi una mano eh ora se mi slama aspetta che giro la testa ce l'hai? belloccio un attimo qua bello aspetta si viva ci va ci va vai ci va su accidenti talcazzo lo vedi? lo volevo leva io questo bravo bravo vai che barracuda no grande franco vai vai vediamo dentro ok ok bravo il franco il franco ha dato doveva metterla più la rita eh? ha dato? dovrebbe il franco pensavo a una paramita perché dava delle testate dice corrente fatta bene la foto? no no colpi 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 meno ossigenato almeno ossigenato devo togliere questo cazzo di cosa qua guarda quanto sarà? 4 kg? che fai che fai io? che fai io? che fai io? che fai io? Grazie.